nome? Piero. Cristian. Perfetto, che squadra tifi? Sono di Torino, che squadra devo tifare? Sono di Cerignola, che squadra devo tifare? Patetici! Calmi, calmi, calmi ragazzi, allora, perché tifi Toro? Beh perché mio nonno andava allo stadio col grande Torino, ha visto le gesta di Valentino Mazzola, nel suo sangue scorreva cellule granata, mio padre sempre tifoso del Toro, io sono in una famiglia del Toro, nata Torino, granata, nelle nostre me ne scorre solo sangue granata. E tu perché Juve? Vince. Che maglia avete con voi? La maglia dell'ultimo scudetto, la cambio ogni anno, io ho la maglia di quest'anno. Perché? Volevo mettere quella dell'ultimo scudetto, ma ce l'ha il museo egizio.